Dai raga, come state? Tutto bene? Noi tutto bene, oggi sono qua con Judith Mimì Esatto, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al suo profilo Instagram e anche YouTube perché ha lo stesso nome in pratica Judith Mimì Esatto Se qualcuno è un J Squad, fatevi sentire J Squad è il suo team in pratica, sono i suoi follower, i suoi fan Oggi faremo la Whisper Challenge, però con una variante Ok Metteremo questa boccuccia Questi affari Questi affari, esatto Per non agenti di tortura, però ok Per me invece siamo una dentiera È vero Siamo una dentiera Vi spiego subito il gioco, in tre parole Allora, uno di noi due In tre parole? Sì, in tre parole Uno di noi Ah, finito, a posto Ok, cominciamo, non ho capito, avete capito, vero? Ok, grande, Giulia Ok, io ho ingesato Lucertola Poi ripeto l'altra volta Lucertola Lucertola Che c***o c**o c***o c***o ha fatto Sì Ma, no, no, tu non avessi il volume a canna Fammi vedere Ma è a canna Ma, ma Zipo, c'è tra poco non mi sento Ma non è possibile Ma 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 Ok, Anima ha vinto. Un'altra parola. Alì già. Saliva. Alì già. Mi fa tolissimo vedere che sei detto così. Ma ti stai sbavando? No, adesso no. Adesso no. Alì già. Conchiglia. No. Alì già. Car. Alì già. Va. Dillo, dillo. Alì già. Alì già. Ma però devi dirlo piano. Alì già. Vaniglia. Vaniglia. Alì già. Vaniglia. Oh, non è giusto. Ragazzi qui ho delle penitenze da farle fare, quanto sbaglia. Ma non ho fatto neanche una. Ma che cavolo. Io non sento niente. Ok. Meglio così. Allora. Allora. Un'altra parola giudica. La lagna. La lagna. La. La lagna. La scasca. La scasca. La lagna. La frangia. No. La lagna. Non ridere. Ma Pietro non è la sua faccia. Ok. La lagna. La lagna. La lagna. La lagna. Cioè. Ah no, non è giusto. Io voglio farle fare una penitenza. Mi serve una parola difficile. Ora ci penso. Passiamo alla quarta parola. Delcino. Regina. No. Delcino. Ripeti. Delcino. Delcino. Non vedo neanche la tabacca che si muove. Delcino. Dalcino. No. Delcino. Delcino. No. Delcino. Delcino. Hai detto delcino o no? No. Fino. Delcino. Sì. Delcino. Io non gioco più. Basta. Del vino. Ma no. Dai è ovvio che ti fai la bua. Oh. Certo che ti fai la bua. Oh. Ultima parola per Judith. Sperando che faccia una penitenza. Mamma mia. Comunque per me. Cinque. Possibilità sono tante. Sono troppe. Cenerentola. Cenerentola. Ginnastica. No. Cenerentola. E di. Vi falo? Cenerentola. Cenerentola. What the f***? Ma dai. Ma no. Cioè. Ma questi chi è che li uso? Scusa eh. No è giusto. Togli queste cookie. Quante. 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 Sei bellissima Judith. Non c'è la f***. Cavallo. Cavallo. No. Sì. Davvero? Sì. Oddio ragazzo è dominato. No. Ho indovinato! Ho indovinato! Brum! Cestino 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 Pastiglia Estetista Cestino 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 C'è spuglio Le hai letto più di 4 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 Quindi devo fare più intensa Nooo Però l'ho indovinato No L'hai letto più intensa Mamma mia Cantare sul balcone La canzone di Pavarotti What? Nooo Ma ci sono le persone Che mi guardano Oggi non voglio fare questa cosa Fa parte del gioco Se perdi, perdi Ma proprio sul balcone Non posso farlo qua No, troppo facile Ok, va bene E anche questa sfida è accettata Non voglio andare No, adesso vai Io comincio Vincerò 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 Ca-ra-e-la Carafa Ca-ra-e-la Cammella Ca-ra-e-la Cannella Carapela Carapela Caramella Carapela 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 Oh ragazzi Carapela Che è la carapela? Carapelo Volevo dire Carapelo Carapela Ok Questa è l'ultima parola No, no, la penultima Penultima parola Ca-ra-ta Salsa Ca-ra-ta Sarata Ca-ra-ta Carapelo Carapela Bucile Carapela Non di Nott'ora Hapele Sicuramente E' bella Un v retained senza musica ok ok sono pronto per ballare che musica mi metto c'è chi c'è chi c'è chi chichi 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 non ci credo sono una grande quindi ho finito ho fatto faccia apposta è stato veramente topi con la bocca non so cosa fare adesso tanto per concludere in bellezza ci diamo un bacio con le bocche no 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 con la barriera va bene con la barriera ok in realtà uno due tre faccio darti in noccia io sulla gancia e non cresce bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando ricordate di scrivermi al nostro video youtube e instagram il link sotto in descrizione ricordatevi di commentare jscard oppure rega ok mi raccomando mettete anche un pollice in su sì non uno tantissimo non solo uno che è uno che è un chat in su noi ci vediamo alla prossima puntata ciao rito